la 79esima mostra del cinema di venezia lo ha visto già tante volte protagonista ha vinto anche un leone d'argento per me è un film fantastico e tante volte è stato in concorso e anche non solo devo dire la verità che uno dei cammei da non perdere uno dei film stupendi da non perdere la mostra del cinema di venezia è padre pio di abel ferrara eccolo qua perché hai ragazzo di questo progetto? perché? perché? perché padre pio? perché non? perché non? un caratteristico un bellissimo non sapere se c'è help quando arrivi un po' 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 per esempio essere stato un po' in questo senso un po' un po' un po' molto forte molto potente una persona bellissima un monaco semplice che però da parte più povera dell'italia e l'incostruisce l'ospedale e quello che mi raccontiamo in questo film il momento in cui lui comincia a ricevere le stigmate e segnate e in quel momento c'è un'insurrezione politica in quel nel piccolo paesino il san giovanni rotondo io sono fascinato per questo libro è davvero un capocollo questo è il padre Pio per me è il più importante ma la storia, la storia politica è la consapevole del padre Pio o no? ma in realtà è tutto insieme tutto intrecciato la parte politica e la spiritualità lui è parte della comunità ah bene, lui ha lavorato tantissimo nel cinema you worked a lot in movie cinema dei film fantastici e adesso lui sta vivendo quella seconda sua età bellissima now you are going through a second age, you were a wonderful one so che è stato a Kiev I've never been in Kiev yeah it is your opinion for this situation it's a nightmare it's World War 3 you know it's as terrible as it can be just terrible it's terrible è un vero incubo è la terza guerra mondiale è terribile veramente terribile do you have a solution? me? no no, 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 not only you in general do we have a solution? I mean the solution is probably a solution so it's compassion love of you know love of God the spiritual life the life of being human being human and sharing your love and accepting other people for what they are thank you thank you thank you thank you thank you thank you